Buonasera e benvenuti anche stasera su Territuria 102 al nostro piccolo spazio con la poesia. Anche questa sera voglio presentarvi un mio carissimo amico Gabriele Cato Polverini, un artista veramente, suona la chitarra, canta, fa parte del complesso di noi Natimale e Cabilia. E' accettato di leggere una mia poesia per me e per tutti voi. La poesia si intitola Ai margini della mia vita. Accolgo volentieri l'invito dell'amico Dario a leggere una sua poesia. Stavo ai margini della mia vita, che scorreva incessantemente intorno a me. Gente che passava e non lasciava traccia della sua ingombrante presenza. Ma niente intaccava la mia fede, la mia voce di esserci. E piano piano mi rendevo conto che dovevo essere io il protagonista della mia vita e di quello che facevo. Io quello che doveva decidere. Io quello che ha torto o ha ragione avrei dovuto prendere le mie responsabilità e ritrovare pian piano la mia centralità. Così feci. Cominciai a scrivere e qualsiasi cosa fosse intorno a me mi incuriosiva e mi ispirava. Una luce, un albero, un fiore, il mare, un fiume, un uccello, una donna, un monte, un castello. Ma soprattutto te che mi hai ispirato e che dal buio mi hai salvato. Ora sono al centro della mia vita. Insieme a te la cosa più grande che c'è. Vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao! Ciao! Ciao!